ciao acquario benvenuto andiamo a vedere questo oroscopo per il tuo segno zodiacale vediamo un po il transito di venere nel segno dei pesci cosa ti porterà quali quali avvenimenti diciamo potrebbe portare con sé nel momento in cui ti sto parlando quindi nel momento in cui stai vedendo su questo video venere è già entrata nel segno dei pesci quindi forse già quello che ti sto per narrare magari già lo stai vivendo già lo stai sentendo diciamo così nell'aria questo passaggio dicevamo è già iniziato e durerà fino al 3 di maggio va bene allora vediamo un po con l'astrologia quindi i pianeti gli astri le stelle cosa ci raccontano dopodiché andrò ad interrogare anche i miei tarocchi con i tarocchi vediamo un pochino più nei dettagli e più scendiamo un po più nei particolari ok allora acquario ma diciamo questa venere in pesci per te è assolutamente neutra quindi non ti fa quadrature però come dire non ti fa aspetti negativi non ti fa aspetti positivi neutra ma in questa sua neutralità direi insomma come passaggio abbastanza carino allora io per te posso vedere sicuramente questa è una mischerata lo so però mi piacerebbe se tu mi dicessi se è così oppure no se vivrai quello che ti sto per dire oppure no ma io ti posso vedere anche farti tante fotografie capito fotografie qualche gita al mare qui ti posso vedere insieme insomma a qualche persona magari una sorella una caramica perché ti vedo insieme ad una donna potresti decidere di farti un giro al lago piuttosto che come ti stavo dicendo al mare e via dicendo ma guarda qui ti vedo anche dei soldini qui c'è qualche soldino anche che gira quindi qui attenzione a non spendere troppo perché li vedo entrare ma li vedo anche uscire quindi diciamo che potresti anche concederti qualcosa di più rispetto al normale però ecco diciamo come si posso dire io si vedo stare bene qui c'è proprio il benessere come bellezza magari più bella o bello è io sto parlando dall'acquario uomo donna e tu sia quindi più bello più più attraente più emotivo più sensibile più carino vedrai che sicuramente potresti attrarre le simpatie le simpatie degli altri uomo o donna che sia anche perché poi dal 16 dal 16 aprile anche marte andrà a raggiungere venere dal segno dei pesci comunque ne ho già parlato nel mio oroscopo per il mese di aprile che ti invito ad andarti a cercare ti posso lasciare il link anche qui sotto insomma quindi diciamo ecco una venere molto carina quindi sicuramente non è un periodo da star male questo quindi non no non è non è una venere non è affatto negativa tutt'altro poi dal 3 di maggio se vuoi diverrà ancora meglio quindi tu potresti addirittura iniziare a vivere delle emozioni dei sentimenti delle vicissitudini che poi che poi dal 3 4 maggio in avanti andranno proprio ad aumentare come se fosse un po la preparazione per un qualcosa di bellissimo di focoso di passionale di bello potrebbe arrivare poi dopo nel mese di maggio ma vediamo i tarocchi magari ci aiutano ad approfondire meglio vediamo cosa ci dicono allora vediamo con i miei tarocchi questi sono proprio miei sono tarocchi che ho creato io ne ho ancora pochi mazzi se ti interessa avere queste carte puoi cercare giù nella descrizione di questo video ti do tutte le informazioni allora cosa porta vabbè questo è volata subito si allora cosa porterà il transito di venere in pesci al segno dell'acquario vediamo venere in pesci per il segno dell'acquario wow vedi infatti la ruota della fortuna va qui lo dice lo dice la parola comunque vediamo quindi un periodo senz'altro fortunato favorevole positivo il fante di bastoni il 2 di coppe vada com'è insomma parla da sé venere in pesci il 2 di spade cosa porterà il transito di venere in pesci per il segno dell'acquario venere in pesci per il segno dell'acquario non ho che volato mezzo mazzo devo ritirare cosa porterà il transito di venere dai pesci e la forza nel taglio del mazzo c'è il papa altra carta assolutamente bellissima come se non bastasse stavo dicendo che ho visto anche questo comunque fermiamoci alla seconda qui c'è anche la stella cioè queste carte sono molto belle allora acquario qui potresti vivere con questa venere in pesci un momento proprio romantico eh qui c'è proprio un momento romantico bello 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 con la persona del tuo cuore un momento romantico pieno di sicuramente guarda che no ovvio dai carte comunque con la persona del tuo cuore va bene quindi qui ci potrebbero essere delle uscite degli incontri passionali proprio con questa persona però non escludo che ci siano anche degli acquari che potrebbero fare una nuova conoscenza proprio durante il transito di questa venere in pesci come ti stavo dicendo che potrebbe poi trasformarsi in qualcosa d'altro da maggio in poi va bene quando passerà in ariete allora lì scatta proprio il fuego non lo escludo quindi fammi sapere nei commenti va bene qui ci sono comunicazioni ma come ti stavo dicendo qui molto ci vedo proprio questa nuova questa questa nuova conoscenza che tu potresti che tu potresti fare va bene ma anche se tu sei già in coppia a vivere un momento molto dolce molto romantico pieno di passione ovviamente con la persona del tuo del tuo cuore qui ci sono anche delle comunicazioni che arrivano quindi sempre guarda il matto e il bagatto è il bagatto del time queste sono carte wow io te lo dio è acquario queste sono carte parecchio belle e non avevamo dubbi parecchio belle quindi qui come stavamo dicendo nuove conoscenze sicuramente ma nuova conoscenza anche un momento molto romantico molto dolce appassionato con la persona del con la persona del tuo cuore qui c'è un desiderio troppo d'amore di di passione di sogno che si realizza se avete litigato e litigato col compagno la compagna figurati qui tu fa pace ma ma senza proprio il minimo proprio il minimo dubbio se già tu sei in coppia ma io vi continuo a vedere una nuova conoscenza una nuova conoscenza che ti piglierà così perché ti piglia di testa e si sa quando una persona oltre che l'attrazione ovviamente quella un po mancare perché insomma mi fanno ridere ando mediano sì ma non è importante è la prima cosa che vedi di una persona è l'apparenza fisica cioè poi per l'amor di dio ci si può innamorare anche di una persona che non ci piace anche a me personalmente è successo quindi di innamorarmi di una persona è proprio mamma mia andola vidi dissi ma che è invece poi alla fine quindi non sto dicendo che solo i belli amano tutt'altro vicepreso ecco però voglio dire comunque la prima cosa che vedi è la prestanza fisica perché ti può piacere o no ecco ma qui c'è tutte e due le cose qui c'è sia il fisico che la testa qui c'è proprio anche questa comunanza questa attrazione proprio mentale mentale non escludo affatto qualche messaggio un po hot qualche telefonata un po in un certo modo capito però c'è anche proprio quella quella passione quel desiderio l'una verso l'altra allora qui ti stavo dicendo c'è questo incontro con questa persona del nostro cuore senza altro incontro molto molto bello comunicazione tutto quanto però ti posso fare ti posso veder fare anche proprio una nuova conoscenza magari vi siete conosciuti da poco per l'amor di dio o magari vi dovete ancora conoscere ci sta pure quello fatto sta che qui stai andando incontro acquario ad un momento molto molto felice questa venere in pesci e non avevamo dubbi ti sta portando ti porterà ti sta portando molte cose belle qui c'è proprio il cuore in pace c'è la serenità anche con un figlio quindi se hai problemi con un figlio o una figlia specialmente se hai un ragazzino o una ragazzina c'è un figlio insomma diciamo scuro di capelli o di occhi c'è gli occhi di occhi castani o capelli scuri ecco in special modo non solo ma in special modo lì ancora più forte qui tu potresti proprio far pace ci potrebbe essere questo figlio e torna all'ovile fammelo sapere mi raccomando quindi insomma tu mi capisci sta venere in pesci ti può portare veramente parecchie cose belle vediamo poi proseguo ancora ma voglio vedere visto che mi fanno vedere la presenza di una o più persone legate a te da affetto da passione o d'amore voglio vedere con il mio mazzo di carte quali discorsi quale parole vi potreste dire o voler dire anche questo è un mazzo mio come vedi l'ho creato io se sei interessato trovi giù nella descrizione del video come fare per averne ho gli ultimi mazzi anche di queste purtroppo quindi come si dice chi prima arriva meglio alloggia si dice dalle mie parti allora andiamo a vedere vediamo qui che discorsi con questa persona che cosa veramente vi direte o vi vorreste dire quindi i pensieri di guarda sono cambiato o cambiata dipende se femmina o maschio la persona che ti parlerà o che ti vorrebbe parlare vedi sono cambiato quindi qui vedrai che non sbaglio quando dico che ci può essere una comunicazione un messaggio da qualcuno con cui potremmo far pace cioè qui ci potrebbe essere anche una ripresa non so come fare non so come fare veniamo cos'altro per l'acquario questa venere in pesci guarda aiuto sono ancora arrabbiato o arrabbiata con te vedi qui c'è stato qualche cosa e n'era volata un'altra mi sento rifiutato da te rifiutato o rifiutata naturalmente vedi mi sento rifiutato da te quindi sono ancora arrabbiato io non lo so però vedi sono cambiato e non so come fare quindi qui qualcosa è successo qualcosa è successo con questa con questa persona però io vedo la pace la pace la tregua i colloqui quindi qui dopo un tentennamento qui c'è proprio il cambiamento poi la ruota della fortuna figurati qui c'è un cambiamento positivo con questa persona ho sbagliato lo so guarda ho sbagliato lo so sono cambiato non so come fare per riavvicinarmi sono geloso geloso o gelosa quindi qui potrebbe dico potrebbe non è detto sia solo così va bene potrebbe essere successo un qualche cosa con questa persona anche proprio per motivi di gelosia o da parte tua o proprio di questa di questa persona non lo escludo affatto però insomma io qui vedo fare pace vedo le cose che sicuramente cambieranno vedo il ritrovarsi perché siete in due che volete questa pace se non è questo il caso se non hai di questi problemi è un quarto d'ora che parlo ho già spiegato che cosa ti porterà questa venere in pesci compresa una nuova conoscenza che poi si potrebbe tramutare più avanti in special modo da maggio in poi in qualcosa di ancora più focoso ancora più wow va bene quindi poi tu mi farà sapere tieni traccia di quello che ti succede e poi tu puoi benissimo venire qui a riscontrare a dirci che cosa stai vivendo va bene acquario grazie per essere stato qui con me in bocca al lupo per tutto sto ben di dio e io ti aspetto sempre qui al mio prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei vi no ciao Grazie a tutti.